Avete visto ora qualche esempio di perturbazione elettromagnetica che si propaga nello spazio, da una sorgente a un rifiutore. In questo film vogliamo mostrarvi che tutte queste perturbazioni sono onde elettromagnetiche. Questo le indiciamo in modo descrittivo. Osservate la gamma di lunghezza d'onda. Onde radio circa un metro. Microonde un centesimo di metro. Infrarosso circa 10 alla meno 5 metri. Luce di digre 5 tra 10 alla meno 7 metri. Ultravioletto circa 5 tra 10 alla meno 8 metri. Raggi X 10 alla meno 10 metri.